Giant Diamond dall'allineamento è quasi pronto nelle gambe di partenza Partiti E vantaggio chi che sia davanti a Bridge Gostri, Norbanus, Giant Diamond, Gibo e Rio Caramboa All'inizio della curva conduce chi che sia davanti a Giant Diamond, Bridge Gostri, Norbanus, Rio Caramboa E Gibo Poco prima dell'ingresso in dirittura è in leggero vantaggio chi che sia davanti a Giant Diamond, Norbanus e Bridge Gostri I cavalli entrano in dirittura Con chi che sia in vantaggio lungo la corda davanti a Giant Diamond, Norbanus Per linee interne Bridge Gostri seguono Rio Caramboa e Gibo E vantaggio chi che sia attaccato all'esterno da Norbanus Seguono Gibo, Rio Caramboa, Bridge Gostri e Giant Diamond E' sempre in vantaggio chi che sia davanti a Norbanus, Gibo, Bridge Gostri e Rio Caramboa Prosegue in leggero vantaggio chi che sia davanti a Norbanus, Gibo e Bridge Gostri E' sempre in vantaggio chi che sia davanti a Gibo e Norbanus Resiste chi che sia davanti a Gibo, Norbanus e Bridge Gostri Da un capo all'altro chi che sia la numero 5 Magnezza in sella paga 3,19 Ha respinto in sequenza prima l'attacco, il tentativo di attacco di Norbanus Che si è presentato insidioso Poi quello di Gibo che alla fine è riuscito a rientrare nei confronti di Norbanus Ma certamente non di chi che sia che si è allungata ancora di più nel tratto conclusivo La delusione ha il nome di Giant Diamond Il terreno, attenzione, è pesante